benvenuti amici in questo nuovo video siamo qui finalmente al moto festung l'evento organizzato dal motoclub it slip ride terza edizione anzi prima edizione moto festo e terza edizione del lessegna adventure che si svolgerà domani sulle belle strade sterrate della lessegna come sempre oggi sabato giornata di test ride ma come si alza le scegna adventure stanno partendo i piloti appunto della terza edizione delle scegna adventure all'interno della prima edizione del moto festo siamo a secondo giorno quindi domenica oggi ovviamente l'evento clou è l'essina adventure con 180 chilometri di percorso in fuoristrada sulle più belle strade della lessegna ma ecco qua guardano alcuni piloti con il 690 però oggi anche per chi non partecipa all'essina adventure c'è sempre la possibilità di trovare le moto degli espositori dei concessionari che hanno voluto partecipare a questo evento come ktm ducati honda yamaha triumph cosa abbiamo poi zero motorcycle eccetera eccetera quindi anche per chi non partecipa all'essina adventure c'è modo di divertirsi e di vivere questo questo evento nel miglior modo possibile wow 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 novità di quest'anno anche il percorso stradale vedo che ci sono un bel po di iscritti anche sul percorso stradale di 180 chilometri di strade di curve di asfalto e stanno partendo ora il primo gruppo anche oggi partono i test ride 10 primo turno abbastanza numeroso e vedo un bel gruppo misto i ducati yamaha e kpm tra i mv sono tutti pronti per fare il giro stradale un gruppo molto numeroso cosa prova il signor sabato a cf sono curioso 1 2 3 4 5 6 6 6 8 9 9 10 10 10 11 Grazie per la visione